Il ripianamento del deficit della sanità abruzzese passa per un consiglio regionale straordinario convocato per domani, giovedì all'Aquila. La maggioranza di centrodestra in regione Abruzzo ha velocizzato i tempi per presentarsi al tavolo nazionale di monitoraggio convocato per il prossimo 27 maggio con il piano di ripianamento del deficit nella sanità. Prodotto dalle quattro astre abruzzesi, 122 milioni di euro. La Commissione bilancio affari generali e istituzionali riunita all'Aquila per esaminare la delibera con cui la Giunta ha destinato circa 68 milioni di euro a rientro, ha contingentato i tempi. Domani, giovedì, corsa contro il tempo, alle 15 la Commissione, poi di seguito il Consiglio regionale straordinario che deve approvare la norma entro le 20. Posizioni contrastanti tra maggioranza e opposizione ascoltiamo Vincenzo Dincecco, Presidente Commissione bilancio e Silvio Paolucci, capogruppo PD. La Regione domani approverà, il Consiglio regionale approverà questa norma che vede la Regione con fondi propri coprire una quota a parte del disavanzo strutturale del quarto trimestre del 2023, circa 19 milioni di euro che la Regione è in pancia perché prudenzialmente è stata in questi anni in grado di costruire dei tesoretti di fondi non spesi che quindi può utilizzare per risolvere problemi di questo tipo. Quindi i cittadini abruzzesi non avranno nessun tipo di problema, il Consiglio domani approverà questa norma e il MEF avrà la copertura che è necessaria entro i termini stabiliti. Quindi nulla di preoccupante, le minacce o comunque le ricostruzioni velate di problemi particolari non esistono, è un fatto normale, lineare di normale amministrazione che occorre ovviamente per un dato di correttezza coprire e la Regione ha i fondi per coprire senza cambiare nulla né dei servizi né mettere le mani nei taschi dei cittadini abruzzesi, non ci sta nulla da questo punto di vista. Quindi tutti gli spauracchi, gli spettri che vengono evocati in queste ore non esistono. Domani ci sarà un Consiglio regionale straordinario o particolarmente importante? Intanto il fatto che sia straordinario e che non sia mai accaduto negli anni precedenti dà il senso della gravità della situazione, un disavanzo strutturale che purtroppo quest'anno richiede al Consiglio regionale 68 milioni di euro di coperture aggiuntive rispetto ai già 60 che la sanità ha introdotto e coperto di suo. È un grave taglio anche per i cittadini, è vero che oggi parliamo di taglie ad accantonamenti anche al personale della Regione, ma laddove ovviamente dovessero essere di nuovo necessarie quelle risorse si taglieranno le spese correnti. Nel frattempo quello che accade nella sanità abruzzese è che i cittadini debbono recarsi fuori regione con una mobilità esplosa, le liste si allungano, le prestazioni diminuiscono, i debiti aumentano e i direttori generali rimangono e vengono promossi. Questo è molto grave e infatti nell'articolo 2 si chiede di intervenire con dei piani di rientro perché loro ipotizzano, addirittura l'aggiunta ipotizza che già sono in deficit per il 2024.